L'avevamo documentato ieri con noi ai nostri microfoni il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 7, una docente per tutti che ci aveva parlato di quanto importante sia sottoporsi volontariamente al test sierologico rapido. Ebbene oggi i primissimi risultati che ci scattano una prima fotografia di quel personale che sarà a contatto con i nostri figli di ritorno in aula. Per la sede del distretto di Marostica la caccia al virus Schiller ha dato il seguente risultato. 332 docenti analizzati, un positivo. Distretto di Tiene 342 tamponi rapidi, zero positivi. Schio 329 tamponi, sette positivi. Un risultato totale per l'Ulss 7 pedemontana nella prima giornata di screening scolastico con 1.003 lavoratori analizzati, otto dei quali con test appunto positivo. A questi è già stato fatto il tampone nasofaringeo. Il risultato più attendibile si potrà avere solo dopo le 48 ore. E intanto è scattato l'isolamento fiduciario, mentre continuano ad arrivare sempre nuove richieste. A Marostica agenda piena anche per tutta la prossima settimana, i pomeriggi. Il mattino, lo ricordiamo, invece riservato a chi rientra dai posti di vacanza sospetti. A breve l'inizio dello screening anche ad Asiago, per due pomeriggi e la settimana.